amici di motosport.com ciao a tutti siamo all'ultima qualifica quella di Abu Dhabi e la commentiamo come al solito con i dati telemetrici che ci fornisce Matteo Bobbi ciao Matteo ciao Franco e ciao a tutti gli amici di motosport allora abbiamo una prima fila tutta Red Bull ma una seconda fila Ferrari con Leclerc che è arrivato praticamente a 40 millesimi di secondo dal secondo classificato che è Sergio Perez la sensazione è che nelle prove libere avevano fatto un po' di caos quelli della Ferrari e alla fine sono riusciti a trovare una buona quadra della F1 75 esatto hanno lavorato indubbiamente durante le prove per cercare di trovare un po' di bilanciamento in una pista dove la coperta è un po' sempre corta perché si arriva spesso nell'ultimo settore con il posteriore stanco io lo chiamo nel senso che le temperature dell'asse posteriore sono salite e non hanno più grip quindi la coperta è sempre un po' corta però devo dire che in qualifica hanno un po' messo insieme i pezzi hanno tirato fuori una buona performance ovviamente per quello che può essere il confronto con la Red Bull che nelle mani di Verstappen una differenza la fa sempre però buona qualifica anche se andiamo a vedere i vari punti. Aspetta ti volevo fare una domanda per creare un discrimine e un argomento di discussione con gli amici che ci seguono che sono sempre molti e questo mi fa molto piacere e li salutiamo tutti. Matteo hai la sensazione che sia una Ferrari che paga l'aver fermato lo sviluppo prima degli altri perché poi noi abbiamo visto le ultime novità a Singapore ma sappiamo benissimo che il lavoro è stato deliberato molto prima oppure cominciamo a vedere una divergenza dei dati fra quello che arriva in pista e poi bisogna mettere in ordine perché all'inizio della stagione era sempre una macchina perfetta subito che sparava il tempo di riferimento e gli altri bene o male dovevano andare a inseguire. Qui invece vediamo una Ferrari che fa fatica e deve mettere insieme i vari pezzi. Sì in questa gara lo è stato però se guardiamo un po' anche gli altri box soprattutto Mercedes anche per loro lo è stato e venivano da un buon periodo nel senso che qui sei sempre ingolosito a voler provare un assetto meno carico perché hai comunque un lungo rettilineo quello dietro anzi nei due e quindi vuoi sempre avere un vantaggio lì però poi la coperta è sempre corta e quindi poi arrivi nel terzo settore che è quello che ti uccide e quindi devi poi trovare il giusto equilibrio. Ci ha provato la Ferrari e anzi ha mantenuto quel livello di downforce partendo dalle libere uno hanno scaricato e poi hanno mantenuto quello. Loro hanno interrotto lo sviluppo presto non è che Red Bull abbia portato fino alle ultimissime gare anche loro più o meno forse una gara dopo due gare dopo però più o meno sono lì Mercedes avevano un vantaggio quindi avevano un vantaggio avevano un vantaggio e dunque diciamo che per la prima volta Franco me lo facevi notare tu prima che iniziassimo la diretta eh la Ferrari eh ha tamponato le differenze che si vedevano da tantissime gare anzi da tutto l'anno praticamente in rettilineo perché mentre di solito pagavano Dazio tanto anche nella curva di accelerazione non solo quando il DRS si apriva adesso devo dire che hanno abbastanza pareggiato c'è ancora quella differenza quando spalancano il DRS in casa Red Bull ma quello ormai lo sappiamo eh però mi facevi giustamente notare tu forse hanno eh si sono spinti un po' in là col motore probabilmente sapendo che l'ultima gara hanno deciso di di aprire con una mappatura un po' più aggressiva e questo sarà molto interessante da vedere anche domani in quella che sarà poi la battaglia per il secondo posto insieme alla alla Mercedes assolutamente sì ecco poi eh guardando il il comportamento della macchina o meglio più che comportamento della macchina un po' lo stile di guida si vede si vedono due stili di guida molto diversi tra Max e e e Charles e anche una macchina un po' diversa perché la Red Bull Franco sembra arrivare in questo fatidico terzo settore con meno fiatone eh facciamo un esempio così e mentre invece la Ferrari ci arriva un po' un po' in debito di ossigeno e quando dico in debito di ossigeno mi riferisco sempre al fatto che probabilmente hanno scivolato un po' troppo nei primi due settori sulle gomme e quando arrivi poi nel terzo la gomma è un pochettino calda oltre misura e e poi ti manca quella quell'extra grip che ti serve per fare il tempo in un settore lento è vero la tua analisi è giustissima ma gli amici che seguono il grafico i grafici eh potranno anche però notare che nel T1 e nel T2 le differenze sono veramente impercettibili di millesimi la differenza grande che ha fatto Verstappen è nel nella parte centrale del circuito bravo nella parte centrale soprattutto eh adesso aspetta che ti dico vado a vedere il numero della curva esatto ma eh ti direi sei sette otto lì c'è un un punto molto importante perché sono due chicane un sinistra destra no lento perché va a dividere due lunghi rettilinei e cosa succede? Succede che lì Leclerc affonda tanto la staccata frena tanto più tardi di Verstappen forse a mio parere anche un po' oltre misura e cosa succede? Si trova che si trova offline cioè non si trova in linea buona per poi avere una buona uscita sempre si dice è meglio sacrificare un po' l'entrata se dopo hai un lungo rettilineo perché quello che perdi in ingresso poi lo guadagnerai con eh con con anche vantaggio nel rettilineo che viene dopo ecco questo lo fa molto bene Verstappen un po' meno Leclerc che si fa ingolosire un po' nell'entrata però poi è in ritardo nell'andare sul gas e questo poi lo paga con gli interessi fino ad arrivare alla staccata di curva 9 e poi succede che nell'ultima parte del giro questo che ti ho appena detto succede un po' sempre con Leclerc che vuole guadagnare tanto in ingresso forse perché sa che il suo punto forte della macchina è l'ingresso però poi in uscita è molto lento se lo paragoniamo a Verstappen è sempre in ritardo sull'apertura del gas. In effetti la cosa è particolarmente interessante Matteo soprattutto se nel grafico del throttle quello in basso andiamo a vedere la prima parte del giro nella prima parte del giro praticamente le linee sono quasi sovrapposte quindi in condizione di gomma che ti dà il grip che ti aspetti e senti la reazione al pedale è esattamente uguale e da metà pista in poi che si vede piuttosto nettamente come Charles si aggrappia i freni sperando di guadagnare in staccata quello che evidentemente sente che gli manca in percorrenza bravissimo è proprio quello se se guidassero entrambi la stessa macchina cioè entrambi per la red bull o entrambi per la ferrari e vedessi come dire due stili di guida così ti direi che leclerc è in pieno over driving cioè sta esagerando noi in ingresso siccome però guidano giustamente due macchine diverse io credo che non sia casuale perché quel livello lì non è nulla casuale anche perché lo stile di guida dei due è molto simile puntato sull'anteriore bravo credo che il fatto che si vedano differenze così forti sia proprio perché leclerc conscio del fatto che in uscita comunque la sua macchina o a centro curva è difficitaria va a voler guadagnare tanto in ingresso per poi cercare di avere una bilancia un po più a suo favore però verstappen invece è matematico usa tutto il buono della sua macchina frena prima la rallenta di più ma in uscita è una è una fucilata cioè va sul gas tanto presto si porta il vantaggio a tutti i metri dopo ecco hai la sensazione che l'olandese fosse consapevole della superiorità della sua macchina e non sia arrivato sempre al 100 per cento del potenziale tenendosi qualche cosa di sicurezza per centrare la pole position può darsi nel q2 ha fatto tanta fatica è nato davvero piano e anche dagli on board faceva fatiche team radio eccetera nel q3 poi ha messo insieme tutto perché poi se noti nel ecco secondo me sai dove ne aveva di più lui nel primo settore franco potenzialmente però secondo me non ha usato tutto quello che aveva il grip della macchina nel primo settore perché poi quello che non usi nel primo te lo ce l'ha in tasca nel terzo e secondo me lui è stato bravo anche in quello non ha mandato magari su di temperature i pneumatici come avrebbe potuto se avesse spinto nel primo settore ma nel secondo e terzo aveva delle gomme fresche perché quando va sul gas schizza via la macchina. Matteo un'ultima considerazione ci proiettiamo a domani è stata fuori gioco completamente mai in partita la mercedes dopo aver dato la sensazione di essere la v13 la sfidante delle red bull ad abu dhabi abbiamo visto che alla fine sono arrivati a una scelta conservativa alla più carica in qualifica per entrambe le macchine in una logica di gara quindi hanno pensato non tanto al giro secco quanto al lo sfruttamento della gomma in gara pensi che la strategia sarà quella di provare a fare il gran premio come una sosta e quindi allora mettere in difficoltà la ferrari può darsi perché loro hanno davvero provato ogni carta e hanno cambiato ali praticamente su ali ogni sessione quindi sono partiti con un livello di downforce in più uno hanno scaricato in fp2 poi in fp3 hanno iniziato entrambi con la stessa ala poi hanno differenziato poi l'hanno differenziato insomma davvero non hanno lasciato niente al caso e poi hanno scelto quella strada qua quindi può darsi che loro abbiano un po pensato al tenere le gomme diciamo che se se hai un po più di downforce nell'ultimo settore aiuti un po la gomma loro sono bravi è però sulla gomma di solito quindi domani non diamoli almeno nei confronti di ferrari completamente fuori dal dai giochi perché poi loro in gara fanno sempre quella quella cosina in più rispetto alla qualifica però certo è che sarà una bella gara perché poi per l'eclare non è banale arrivare davanti a perez amici allora siamo arrivati in fondo a quest'analisi che cosa ne pensate dei temi di discussione ve ne abbiamo dati dateci le vostre opinioni cliccate la campanella per avere le informazioni dei prossimi video di motosport.com Matteo eh qui si chiude la nostra avventura di quest'anno ma ovviamente l'idea è di ripartire l'anno prossimo magari allargando la collaborazione sarebbe molto bello quindi mi fa solo che piacere è stato un bel anno insieme a tutti gli amici ho letto tutti i commenti erano sempre tanti e tantissimi numeri quindi faccio i complimenti a tutti noi franco perché è stato un bel anno ciao Matteo grazie agli amici che ci hanno seguito ciao a tutti ciao a tutti